Valorizzazione e sviluppo economico del territorio. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione nella sala consigliare di Palazzo Baronale del progetto Il Distretto del Commercio a Torre del Greco. In rete associazioni di categoria, imprese e amministrazione comunale con un obiettivo comune, il rilancio del commercio e la promozione del territorio nell'ottica del turismo. Ai microfoni di TV City, l'assessore alle attività produttive Luigi Ascione. La finalità è chiaramente quella dello sviluppo economico del territorio. Era un progetto che io ho ereditato, sul quale ho dato una grossa spinta e indirizzo ai miei uffici di finalizzarlo, cosa che siamo riusciti a fare fortunatamente tra Natale e Capodanno. Sostanzialmente con una delibera ad hoc contenente sia l'atto costitutivo che lo statuto. Il progetto è di una rilevanza fondamentale perché si va ad innestare in quello che è uno sviluppo economico del territorio, e quindi un rilancio economico del territorio con tutta una serie di non solo iniziative ma anche proprio di eventi strutturati, questo diciamo è l'idea, che magari possono ripetersi ogni anno quindi con una ciclicità al fine di attrarre ovviamente il turismo e attrarre avventuri anche per quelli che sono appunto i nostri esercizi commerciali che hanno vissuto e vivono un momento di forte congestione. Dopo la firma di stamattina quali saranno le prossime iniziative? Dopo la firma di stamattina sicuramente seguirà il completamento di quello che è la relazione illustrativa che poi dovremo andare a presentare alla Regione. è un momento molto importante perché è il contenuto, oggi noi stiamo siglando il contenitore, la relazione illustrativa è il contenuto, quindi quello che è la progettualità che effettivamente si andrà a mettere in campo, che passa attraverso lo sviluppo di aree attualmente in disuso o comunque connotate da un certo disgregamento sia sociale che culturale ma anche edilizio. Io credo che Torre del Greco sia una città volta al turismo, di certo non siamo una città come dire industriale perché non abbiamo aree industriali, però abbiamo la fortuna di essere una città costiera e quindi questa città costiera ci dà la possibilità, avendo il mare e avendo il visoio, di favorire lo sviluppo del turismo, cosa che fortunatamente nell'ultimo periodo stiamo già avendo e dobbiamo implementare assolutamente. Le nostre organizzazioni hanno sollecitato da tempo l'amministrazione comunale affinché si costruisca questo percorso che noi consideriamo strategico, strategico sia per le nostre piccole imprese ma soprattutto per costruire uno scenario di valorizzazione territoriale. L'idea è quindi quella di costruire una sinergia tra istituzioni, associazioni di categorie, imprese per immaginare un modello di valorizzazione territoriale a partire da quello che è il nostro patrimonio culturale che sia in grado innanzitutto di innescare un processo di servizi integrati e di animazione per attirare flussi turistici e per incentivare l'acquisto nei negozi di prossimità. Pensiamo in particolare ai servizi, mobilità e viabilità in primis, decoro urbano, sicurezza, comunicazione, marketing territoriale, processi di incentivazione e l'acquisto, insomma sono tantissime le iniziative che possono essere messe in campo chiaramente a partire da uno sforzo che sia individuale e collettivo verso una visione di sviluppo territoriale. Oggi il primo step? Sì, oggi il primo step è la firma degli atti amministrativi, dopodiché ci sarà l'iscrizione al registro regionale e da lì poi chiaramente si dovranno innescare dei meccanismi operativi di costruzione di questo processo. Credo che per noi fosse fondamentale insomma approntare il discorso sui distretti commerciali. è indubbiamente l'evoluzione di quello che è stato in passato con i centri commerciali naturali ovviamente con opportunità importantissime per il rilancio della città, delle attività produttive e per il turismo in città. In particolare come si articolerà questa iniziativa? Abbiamo già presentato un progetto per il rilancio in generale delle attività produttive, del turismo ma amplieremo il discorso anche addirittura sul rifacimento dell'arredo urbano piuttosto che il recupero di zone disagiate quindi un discorso a 360 gradi è come dicevo un appuntamento troppo importante per la città e ci tenevamo ad essere all'interno di questo progetto e di poter governare essendo sul territorio conoscendo quali sono le problematiche delle attività produttive sul territorio essere all'interno e dare il nostro apporto all'amministrazione comunale. Grazie 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 Grazie